Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito portosalvo, frutta e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, salsiccia tradizionale di suino 3,90 euro al chilo, fettine di arrosto di bovino 7,90 euro al chilo, parmigiano reggiano dopo 1,29 euro letto, prosciutto cotto, fetta golosa, galbani 99 centesimi letto, morta della galbani 7,90 euro al chilo, pasta barilla vari formati 1,89 centesimi, gelato ringo, cacao vaniglia 1,99 euro, gelato cuore di mamma 1,99 euro, tronchetto balconi vari gusti grammi di 80 per 10,89 centesimi, birra poretti 79 centesimi, vodka keglevich vari gusti 5,99 euro, latte candia parzialmente scremato 1 litro 59 centesimi, detersivo lavatrice sole fustone 100 misurini 7,99 euro, ammorbidente coccolino litri 4x2 4,99 euro, spaccio alimentare via degli Etruschi 2, strada statale 106, melito portosalvo.